Finalmente inizia la mia avventura qua a Cagliari, vengo con grande entusiasmo e grande determinazione per raggiungere un obiettivo che sappiamo tutti qual è. Ho trovato una squadra affiatata, con due risultati positivi come sono state le prime due partite e diciamo che è cambiato il vento nello spogliatoio. Mi trovo a mio agio maggiormente in una difesa 3 quindi diciamo che con il mister Mazzari ho già parlato e ci siamo trovati molto sui vari concetti di gioco e spero di essere d'aiuto a lui, alla società e alla squadra. Sarà una partita difficile perché comunque affrontiamo una squadra forte, una squadra che ha campioni all'interno della Rosa quindi sappiamo che non è una partita facile però noi abbiamo un obiettivo in mente quindi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso partita dopo partita e cercare di raggiungere l'obiettivo il prima possibile.